Prima di tutto è stata una gran bella partita, emozionante fino all'ultimo, mancava solo il gol. Negli ultimi 20 minuti l'Italia ha fatto vedere che qualcosa sa fare, diciamo col condizionale, saprebbe fare sì. Naturalmente fa un po' male uscire, però da un certo punto di vista è un bene, perché si stava un po' politicizzando la cosa, si stavano mettendo in campo troppe polemiche, troppa tensione, secondo me è una buona lezione, come è servita ai francesi servirà anche agli italiani, bisogna dare meno importanza a queste cose, lasciar giocare lo sport sul campo e proprio non accapigliarsi troppo su questo. Io non ho apprezzato in particolare l'atteggiamento dei giornalisti sportivi italiani che andavano costantemente a cercare la polemica, mettevano pressione su tutto, mentre in campo politico rispetto per esempio a quello che è successo in Francia c'era un pochino più di calma, però vedevo un crescendo pericoloso e quindi forse è meglio uscire prima.